Veramente, hai portato il cuore? Cos'è? Cuore! Cuore! Chi sei? Cuore! Lo sento, lo sento! Cuore! E basta! Ma chi è? Cuore! Vorrei salutare la mia cantante preferita, Cristina. Ma Cristina chi? Cristina, senza di lei il mio cuore non batterebbe. Ma Cristina chi? Davote, Davena! Cristina Davena! Cuore! E calma, cuore! Ti appartengo e se ci tengo e se prometto poi mantengo. Stia calmo! È passata, è passata, è passata! Allora me ne prendo una, me ne prendo due e me ne prendo tre. Ma che sto facendo? Ma che sto facendo? Mi sto preparando, domani è sabbalentino, devo uscire con una ragazza e non posso fare brutta figura. Ho capito, ma perché hai preso tre pillole blu? Eh, devo fare il cuore duro, cuore, capisci? Cuore! Ma che cosa mi è? Devo confessarti una cosa, a noi donne piace il cuore tenero. Eh, infarti, infarti! No infarti, è infatti! Ma appartiene se ci tiene, se prometti poi mantiene. Ullo, ullo, ullo! Che succede? È passata, è passata, è passata! È passata! Sai che da vicino sembri Thorne Forrester? Adesso... Adesso devo andare, mi aspetta un amico mio americano Bye, devo andare a un concerto e con lui entro prima, salto la fila. Ah, per questo vai con lui? Sì, perché con Bye, pass! No, vabbè! No, vabbè! Mariano Bruno! Bravo Mariano Bruno, ora... Ricordiamo che Mariano Bruno, dopo questo pezzo, tornerà a suonare con gli Oasis. Sì. Allora, siamo emozionati, veramente emozionati. Ve l'abbiamo detto nell'anteprima, no? Sì, l'abbiamo... Il TG2 abbiamo un grande...